E' un uomo dilaniato, è un uomo che adesso sta, deve prendere una decisione, capisci? Una decisione tra me, che sono il futuro, la passione, l'avventura, quella facciata arida, sepolcrale, insomma anche un punto borghese di sua moglie, con la quale, scusa, tra parentesi, secondo me non scopa neanche più. No, guarda, io ti imploro, io ti prego, io ti supplico, va bene? Non farlo tanto per lui quanto per me, che ogni volta gli ha perso tanta sacchia a seduta. Non mi smerdare l'unica figura certa della mia vita, che è lui, va bene? Ecco, siccome lui è un punto di riferimento, non me lo smerdare, cambia argomento. Cambia argomento?